La missione di Amgen è davvero di servire i pazienti. Si deve al fatto di sabermos la finalità di nostro lavoro, servire ai pazienti. La nostra missione è essere sempre al servizio dei pazienti con la nostra attività quotidiana. L'amgen è davvero sinceramente e autentica un compagno che mette i pazienti al centro. La nostra missione è essere la migrazione di essere la migrazione della terapia della terapia in il mondo. Non è solo essere mediocre o sempre, ma vogliamo essere la migrazione. Per essere scienze-based significa essere data-data. Scienze è quello che faccio qui. Scienze è quello che fa fare. Per essere scienze-based significa che usiamo un'analitico approccio per cercare questioni e risolvere complexi problemi. Abbiamo competito ogni giorno per provare una competizione competitiva. Abbiamo motivato l'altro, vi challenge l'altro so che possiamo performare la migrazione. Per essere ready per competire, ma al stesso tempo abbiamo bisogno di fare in un modo molto respetivo. L'amgen brings value per i pazienti tra i pazienti e effettivi molecoli. Non è solo guardare le conseguenze, ma guardare le conseguenze. Ma guardare le conseguenze, ma guardare le conseguenze. E come si può fare un'analitico per i pazienti. Abbiamo trovato un modo di risolvere le persone. Non solo finanziamente, ma anche per provare le feedback. E anche per riconoscere le persone. Compliance e l'ethicale comportamenti non è l'optione. È fondamentale e le basiche. Ci vediamo che non ci sono gli effetti che giustificano le conseguenze. È come ciò che siamo arrivati che è importante. L'amgen è uno dei fondamentali dell'Amgen è essenziali per quello che facciamo a Amgen. La compagnia truste che noi facciamo un buon lavoro. La compagnia truste in l'engagement. La qualità è una delle cose più importanti. Amgen ha un grande comitamento per qualità. Se è designare i programmi e protocolli, a manufattare i medici, e poi eseggiare i prodotti. Non solo la collaborazione di tutti i nostri campi, ma non solo i nostri campi, ma anche i nostri campi in altri paesi, non sarebbe chi siamo oggi. L'amgen è una squadra di trattamento e supporto di altri campi per fare delle decisioni critiche. L'amengo la frase che dice, è che, solo, si fanno più veloce, ma insieme, si fanno più veloce. Abbiamo ora sentito una sensazione di comunità. Collaborare, comunicare e essere accontabile è un'attività di agire tutti gli stagionisti e mantenere loro attività. È importante che abbiamo diversi temi, che crederemo e che abbiamo collaborare a tutti gli altri. Per me, significa che sia iniziare le persone, sentire attività di tutti gli altri, e stagionare le persone. It's the science behind the molecules, it's the team, the friends that I have within the company. It is also extremely satisfying to know that what you do gives such a significant contribution to the lives of others. That what you do is really meaningful. A belief that we can bring the best out of each other to ensure that we do the best for our products and hence for our patients as well. This is how we do business. This is how we do business.